Ciao ragazzi, sono ritornata con un nuovo video Un video dove farò vedere cosa c'è nel mio Samsung Next Turbo Allora Questo è il mio telefono Infatti vedete la videocamera Poi qua devo sbloccare E c'è un telefono Lo sfondo di un ragazzo Qua sotto c'è Telefono, messaggi, rubrica E il menu principale Qua c'è Radio F Orologio, camera e musica Poi c'è Internet Impostazioni Promemoria e agenda Poi qua c'è Email, archivio, plistore E Windows Servizi Perché io sono Windows Poi c'è Poi c'è navigatore Google Maps Gmail Poi c'è Google Tech News e Meteo Social Hub YouTube e Latitudine Poi c'è Samsung Apps Team Apps Poi c'è YouTube E poi c'è Instagram Che per chi mi vuole seguire Mi chiamo SweetLove9099 Che qua vedete tutte le mie foto Oddio Sì non si legge Vabbè Però ve lo metto sotto l'infobox Vedi Mi vedete tutte queste foto C'è l'ultima Se vedete questa Sono io Poi c'è Reprica Reprica Registrazioni Calendario Ricerca Merda Poi c'è Download Luoghi Team E poi cos'è che c'è Team Cloud 119 Self Come si chiama qui Quick Office Non so come si dice Maglia Gestione Attività Vabbè Whatsapp E tag for like Che tag for like Ehm I tag di Instagram Praticamente io tipo Scelgo sempre Popular Schiacciate su Dio Questo Perché non me lo fa vedere Dio Copia Es che Schiacciate su Sempre il primo Vedete Poi vabbè C'è scritto Copia E me lo copio Poi c'è Poi c'è Poi c'è Galleria Ok Questo È il mio video Sotto Vi metto Sotto l'info box Vi metto Ask Instagram Ehm Un altro sit Non mi ricordo più Se vi piace questo video Cliccate mi piace E iscrivetevi Un bacio Ciao 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 Ciao